Radio Radicale, siamo con Manfredi Potenti della Lega, membro della Commissione Giustizia, per parlare dei referendum, degli otto referendum che oggi vengono esaminati dalla consulta. Allora, volevo sapere se lei è ottimista, almeno sui referendum sulla giustizia, e qual è la sua impressione, anche rileggendo le parole di Amato. Sì, io mi sento di condividere le parole del Presidente Amato. Io credo che la consultazione popolare sia un valore irrinunciabile, credo che quesiti di tale importanza, perché quelli sulla giustizia si affiancheranno ad altri su tematiche che i cittadini hanno in questi mesi scorsi sottoscritto presso vari punti di raccolta firme, si parla ad esempio di cannabis, e soprattutto noi, è chiaro, come Lega ci siamo concentrati sulle proposte referendarie in tema di giustizia. I temi trattati da queste sei proposte sono molto importanti, perché abbiamo introdotto delle argomentazioni che la stessa senatrice Giulia Buongiorno, responsabile del Dipartimento Giustizia, Matteo Salvini, hanno voluto marcare come addirittura necessari per completare una riforma dell'ordinamento giudiziario, che proprio in questa settimana noi incardiniamo, diciamo, come proposte provenienti dal Governo, subemendamenti al testo di legge delega Buonafede, e che riteniamo potersi completare soltanto attraverso un passaggio di consultazione popolare. Noi siamo fiduciosi che la consulta vorrà ammettere alla consultazione tutti e sei i quesiti sulla giustizia. I cittadini sanno che sono temi particolarmente sentiti, come ad esempio quello sulla responsabilità civile dei magistrati, ma non ultimo la divisione delle carriere e così come tutti gli altri. Noi riteniamo che ci debba essere necessariamente un esame, non come storicamente è avvenuto, i radicali ne sono testimoni di, a volte, insomma, una falcidia di testi che sono stati praticamente, diciamo, azzerati dalla, voglio dire, dalla volontà, ecco, diciamo, esaminatrice della consulta. Stavolta, ecco, sotto la Presidenza Amato, noi ci auspichiamo veramente di poter dare il via libera a quanto verrà sottoposto integralmente ai cittadini. Stamattina si riunisce il Movimento 5 Stelle per decidere una posizione sui referendum. Cioè, le sembra... Come trova questa cosa che loro si sono svegliati oggi per prendere una posizione sui referendum? Ma mi sembra molto curiosa perché il dibattito su questi quesiti va avanti da mesi ed anzi, nel momento in cui abbiamo portato nelle piazze, insieme ai radicali, la possibilità di sottoscrivere questi testi, in Parlamento e anche nelle commissioni si era già discusso molto sulla opportunità appunto di ammettere alcuni testi ed altri e come trattare determinati argomenti, tal che il legislatore avrebbe comunque potuto anche intervenire. Quindi, da una parte mi stupisce, ecco, questo ultimo tuffo con cui i 5 Stelle intendono, insomma, prendere una posizione... Una riunione che ha voluto Conte. Sì, questo è chiaro. Tra l'altro, insomma, con le difficoltà che sappiamo esserci state all'interno del Movimento 5 Stelle, ci auguriamo peraltro che vengano risolte quanto prima perché avere un interlocutore, che tra l'altro è il partito che attualmente esprime, diciamo, numericamente, nei due rami del Parlamento consistenti presenze di parlamentari, credo sia opportuno che abbia delle idee molto chiare rispetto a dei quesiti che cambieranno qualora fossero chiaramente approvati, si raggiungesse il quorum e ci fosse un voto favorevole, cambierebbero il volto della giustizia in Italia. Sull'eutanasia e la cannabis, lei fa il tifo per la non ammissibilità? Beh, sono temi particolarmente delicati. Sull'eutanasia abbiamo in corso di esame un testo che ci sembra, ecco, una... Sul fine vita. Sì, sul fine vita, appunto, ci sembra un testo che comunque possa in qualche modo iniziare ad avere quei caratteri di, diciamo, di propositività, ecco, di opportunità in termini legislativi va migliorato, ma in qualche modo, ecco, potremmo esserci. Sul tema della cannabis dobbiamo necessariamente fare un esame di tutta la materia, di tutta la disciplina, perché le questioni da trattare sono molte, afferiscono sia alla criminalità organizzata, ma anche al problema del piccolo consumatore di strada, ai nostri giovani che devono essere tutelati da quella che comunque è una, diciamo, sostanza che è deleteria e negativa per la salute. Quindi noi riteniamo che, benvenga, ecco, le consultazioni quando ci sono, sono sempre positive. Però riterremo, peraltro, opportuno, qualora, ecco, questo quesito fosse ammesso, che si intervenga sulla materia con un riordino complessivo della legge in materia degli stupefacenti, ma anche con una visione futuribile di quella che è, voglio dire, anche un po' la tutela della salute che vogliamo destinare ai nostri giovani. Bene, grazie come sempre a Manfredi Potenti della Lega.